La sedicesima giornata della Samsung Gear Volley Cup sorride a Limoco Volley Conegliano. Di fronte a un palla verde sold out da 5.350 spettatori, le pantere di coach Mazzanti superano la Pomica Salmaggiore per 3-1 e allungano in classifica proprio ai danni delle Rosa, che dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato si trovano ora a 4 punti dalla vetta. Cade anche l'Igor Gorgonzola Novara, che contro il Bisonte Firenze mette la parola fine a una lunga striscia di vittorie. Successo anche per l'altra formazione toscana impegnata in Serie A1, la Savino del Bene Scandici, che passa al tie-break contro un Saugella Team Monza. Vittoria al quinto set per la Lugio Honor Meccanica Modena, che rintuzza il tentativo di rimonta della Metallega Montichiari. Negli anticipi del sabato, infine, la UNET Yamamai Bussarsizio risorge, imponendosi sulla Foppa Pedretti Bergamo con un etto 3-0, mentre su Tirol Bolzano ha la meglio sul club Italia Crai. Fissato per mercoledì alle 20.30, il primo e unico turno infrasettimanale del girone di ritorno. Stasera, anche in questi momenti difficili, perché comunque la squadra non ha un filo sicuro, come di solito è, perché adesso momentaneamente senza semi, andiamo ancora un attimo a se starci. e quindi cambiamenti di ruoli, Michi e io ce la teniamo un po' di qua, un po' di là. E comunque brave tutte, perché sono rimaste... Brave tutte noi, perché comunque chi è entrato ha fatto benissimo e sono contenta per questo. Grazie! 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 Grazie!